Il Comune di Maratea è stato presente alla BIT di Milano con uno spazio all'interno dello stand della Regione Basilicata che ha ricevuto la visita del Ministro Garavaglia. Durante la Borsa del Turismo Internazionale l'assessore comunale a ramo Valentina Trotta ha presentato in anteprima il programma degli eventi della città di Maratea. Per il 13 maggio è previsto il passaggio della Giro d'Italia, il 10 luglio sarà il giorno della festa nazionale delle proloquo italiane. La nuova edizione di Marateale si terrà dal 27 al 31 luglio, previste manifestazioni fino a settembre. Siamo certi che il lavoro che abbiamo svolto a Milano, ha detto il sindaco Daniele Stoppelli, unito al grande lavoro di tutti gli operatori locali impegnati nella riapertura delle proprie attività, favorirà il tutto esaurito nelle strutture ricettive come accaduto negli ultimi anni.